Buongiorno Notizia 6 minuti dopo le 9 torniamo in studio, è il momento del nostro ospite quest'oggi ospitiamo Giussi Lacava, riconfermata alla guida di Assipan Catania i panificatori della Confcommercio. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno. E allora parleremo intanto di questa riconferma, quindi una fiducia che si rinnova per quanto riguarda il suo operato, un motivo di soddisfazione in più? Sicuramente sì, anche perché comunque l'istituto della panificazione è importantissimo in quanto deve rimanere artigianale ed è comunque questa lievitazione, questa magia che il pane praticamente dà col suo profumo e anche un motivo di socializzazione all'interno delle nostre famiglie, delle nostre tavole. E anche perché è uno degli alimenti che non manca appunto ogni giorno. Sicuramente, il nostro pane quotidiano. E allora il nuovo direttivo dell'Associazione dei Panificatori della Confcommercio lo ricordiamo, oltre a lei, Presidente Giussi Lacava, fanno parte anche Filippo Cuttone, Fabio Mollica, Luciano Mirabella e Concetto Pellegrino. Una squadra che avrà il compito di guidare la categoria per quanto tempo? Per cinque anni. Per il prossimo quinquennio. Sono tanti i problemi, dicevamo anche fuori onda, che interessano la categoria. Possiamo intanto accennare ai principali. Uno si conosce bene, quello della chiusura domenicale. Sì, la chiusura domenicale, come dice appunto il decreto Turano, che la prima terza domenica del mese bisogna rimanere chiusi e ci sono anche quattro giorni durante il mese che sono infrasettimanali che bisogna rimanere chiusi. Allora, la categoria è d'accordo, abbiamo sentito praticamente parecchi panificatori sia in provincia che su Catania ed è d'accordo sul giorno di chiusura infrasettimanale, ma non sulla prima e terza domenica del mese. Per quale motivo? Perché ci sono molti panificatori che lavorano molto di più la domenica e non ad esempio il sabato, quindi dovrebbe essere una scelta del panificatore quella della chiusura. Optare per uno o per l'altro giorno? Sì, per l'altro giorno. Quindi è una richiesta che viene anche dalla base a quanto ci vale di capire. Sicuramente sì. E Catania comunque non è stata d'accordo nelle varie riunioni e assemblee regionali praticamente sulla chiusura domenicale, perché è desiderio del catanese quello di andare a comprare pane caldo la domenica mattina, cioè diventa quasi un uso domenicale la passeggiatina per avere il pane caldo. Anche perché la chiusura, scusi se la interrompo, è azzardo, un'ipotesi potrebbe avvantaggiare l'abusivismo commerciale in questo settore? Sì, come nell'80. Cioè nell'80 ci fu, a Catania lo sapevamo benissimo, Il pane è dentro la strada? Sì, sì, in strada con l'alzata dei cofani della macchina impacchettato alla Malepeggio praticamente. Quando oggi ci sono delle normative ben specifiche, rigide, sulle quali non si può praticamente... Quindi anche sull'igiene, sulle condizioni di tenuta del pane, no? Sì, 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 sicuramente sì. Ecco, quante persone, quanti panificatori rappresenta la vostra categoria su Catania? Siete tanti? Sì, su Catania e provincia 1069 circa. Quindi una categoria nutrita che chiede a gran voce il rispetto di questa normativa. Di questa normativa, di questa artigianalità e soprattutto, cioè, diciamo, che il pane venga rivalutato. Cioè mentre prima, ad esempio, uno degli articoli positivi di questo decreto è appunto la formazione o comunque chi vuole aprire un... Di questo ne parleremo tra poco, certo, perché bisogna essere qualificati per poter fare questo lavoro. Ne parleremo tra poco appunto con Giussi Lacava, presidente dei panificatori di Confcommercio Catania, che rimane in studio con noi e quindi restate all'ascolto. Buongiorno Notizia 9.26 ancora in studio con il nostro ospite, Giussi Lacava, presidente dei panificatori di Confcommercio Catania. Stiamo parlando dei problemi della categoria, ma vogliamo parlare anche di pane, perché è un prodotto che piace a tanti e che continua ad avere sempre successo, no? Sì, il pane ha un suo successo e, ripeto le parole magia, perché comunque il profumo di un buon pane ti fa ricordare, ti fa quasi emozionare, secondo me. È cambiata un po' la tipologia di come si fa il pane, è cambiato anche il sistema, il metodo negli anni. Sì, negli anni è cambiato il metodo, con l'ausilio praticamente delle nuove attrezzature, la tecnologia, c'è meno lavoro da parte dei panificatori, però secondo me deve rimanere quella parte di artigianalità, perché se no si perde appunto il buon pane di una volta. Oggi tra l'altro il prodotto è diversificato, perché ci sono tanti tipi di pane. Qual è quello che ha più successo? Allora, in questo momento il pane che ha più successo è la riscoperta del pane fatto con i grani antichi. Noi abbiamo citati dal Decillis 50 tipi di grani antichi, però al momento vengono commercializzati praticamente 5 tipi di grani antichi. I più famosi? Sì, sì, i più famosi. Li possiamo ricordare? Certo, è la timidia o duminia, viene tradotto in vari modi, però in siciliano antico viene chiamata duminia. Poi il Margherito, il Percesacchi, il senatore Cappelli, che non è di origine siciliana ma viene acquisito dalla Sicilia, e il Russello, che già nel 1100 vengono fatte le culturelle di Delia praticamente. Quindi è un pane di grandissima qualità anche dal costo superiore, giustamente. Sì, sì, è un pane che dipende da dove si compra, in quale zona della città, oscilla dai 4 ai 6 euro al chilo circa. È un pane con un glutine molto lento praticamente. Più digeribile. Sì, sì, più digeribile perché è facilmente attaccabile dal, se fatto con lievito madre, è facilmente attaccabile dal lievito madre, quindi la parte gliadinica, che è una reazione chimica che c'è all'interno, che avviene all'interno del pane durante l'impastamento, il glutine si scinde in gliadin e glutanine, praticamente la parte gliadinica viene erosa leggermente durante la lievitazione. Invece il pane è quello più comune, il pane di semola. Il pane di semola è di grano duro. Che prezzo mantiene nella nostra provincia, in Sicilia? Dai 2 euro in Sicilia, oscilla... Varia. Sì, varia praticamente, perché se andiamo nelle zone del Ragusano già è 4 euro al chilo, su Catania è dai 2 euro a 2,80 euro, oscilla come prezzo. Possiamo oggi affermare comunque che si produce un pane di ottima qualità, anche se non tutti, ecco, il vero artigiano, il vero panificatore si deve andare a cercare. Sicuramente sì, perché comunque alcuni panificatori si improvvisano, questo lo diremmo nella terza parte, perché comunque non si ci può improvvisare panificatori. Ci vuole competenza, ci vuole anche, come si faceva una volta, andare, perché c'era il mastro governatore ai tempi, laddove il ragazzo praticamente imparava l'arte della panificazione. Quindi Giusti Lacava è anche una storica del pane, possiamo dire. Mio padre era uno storico, non c'è più oggi purtroppo, da 50 anni faceva panificazione. Però appunto ha saputo tramandare questa passione alla figlia. Vogliamo chiedere un'altra cosa, una volta il panificio vendeva soltanto pane, oggi non più, oggi vende tante cose, tanti prodotti. Sì, oggi c'è una diversificazione della produzione di prodotti da forno, che ben vengano, perché comunque fatti in un certo modo, ci ricordano gli antichi sapori dei biscotti al latte fatti dalla nonna, o della ciampella fatta appunto dalla nonna, o comunque di tante altre cose. Pizze scacciate. Sì, la scacciata fatta con la farina di semola praticamente, come si faceva una volta, che non è gommosa e quindi si impregna di quello che può essere la verdura, questo pane in pasta che poi diventa... Presidente, ci sta facendo venire un po' di langorino e quindi noi intanto diamo la linea alla regia, tra poco proseguiamo a parlare con Giusti Lacava di Assipan, con ancora dei problemi di questa categoria, dopo aver parlato di pane, abbiamo suzzicato un po' anche l'appetito, vista anche l'ora favorevole ai nostri ascoltatori. Restate con noi. Buongiorno Notizia. 9.46, continuiamo a parlare di pane, di panificatori, con la nostra ospite, Giusti Lacava, presidente dei panificatori di Confcommercio Catania. Dicevamo il problema della chiusura domenicale il più grande, ma ci sono altri problemi che affliggono la categoria, quali che voi rappresenterete e cercherete di portare avanti per risolverli? Allora, uno dei problemi che affliggono la categoria è questa, io la chiamo guerra dei poveri, perché comunque non c'è un allineamento del prezzo del pane, soprattutto non tra i panificatori, ma laddove viene portato tipo alle salumerie o quant'altro. Quindi questa guerra che c'è tra noi i panificatori non va bene, perché comunque il produttore è sempre un panificatore. Bisogna fare gruppo, sistema. Bisogna fare squadra, sistema, gruppo e anche con gli ipermercati, perché anche loro ci fanno la guerra sul prezzo praticamente. Laddove l'ipermercato per avere un prodotto civetta tra tutti gli altri prodotti va a vendere il pane a un prezzo sottocosto. Questo non va bene assolutamente, è un danno alla categoria. Sicuramente bisogna fare squadra. Categoria si diceva che adesso deve essere formata, cioè non ci si improvvisa a fare pane, a fare il panificatore. No, finalmente non si ci improvvisa a fare il panificatore, perché comunque prima bastava l'idea di una persona di voler aprire un panificio e diventava, andando naturalmente ad avere i requisiti sanitari, diventava possibile pur non conoscendo assolutamente la... Ora invece come avviene? No, adesso avviene o attraverso dei corsi di formazione qualificanti, corsi di formazione regionali qualificanti, o dopo aver lavorato almeno per due anni presso un panificio, come collaboratore, come ha detto alla panificazione. E naturalmente ci ho confermato all'Inps. Quindi anche acquisendo un'esperienza giusta. C'è anche un ambizioso progetto da parte di Assipan, quello di attribuire il marchio DOP al pane. Sì, sì, sicuramente questo è un progetto che da anni se ne parla, ne parliamo, bisogna avere gli elementi giusti per poter appunto avere il DOP e finalmente dare la giusta, come non mi viene la parola, la giusta importanza all'artigianalità della Sicilia praticamente. Perché comunque il pane in Sicilia era principe delle nostre tavole. E c'è anche un altro ambizioso progetto, quello di diffondere, redigere, diffondere una vera e propria carta del pane da proporre all'utente, al consumatore. Sì, questo deve avvenire in collaborazione con la ristorazione appunto. Appunto, sì. Laddove il consumatore va a vedersi la carta dei pani e a costare la qualità di una certa tipologia di pane praticamente al cibo. Per esaltare praticamente appunto la... Ci si siede al tavolo del ristorante e insieme alla carta del vino, la carta del pane per avere a disposizione anche le varie qualità, le varie tipologie di pane da abbinare ai prodotti, quindi ai primi, ai secondi e chi più ne ha più ne metta. Per concludere, per Giussi Lacava, anche se già in qualche modo l'abbiamo detto, cosa rappresenta il pane, cos'è il pane, quale messaggio vuole dare ai nostri ascoltatori? Il messaggio che voglio dare ai nostri ascoltatori è che dietro una forma di pane c'è tanto lavoro, tanto, tanto lavoro e tanto sacrificio, se fatto con artigianalità praticamente. E poi il ritorno a quello che rappresenta il pane è la sacralità del pane e quindi che i panificatori prendano contezza di quello che hanno praticamente in mano. Questa trasformazione della farina in prodotto finito, io lo dico sempre, il panificatore è come un regista. Il regista con i suoi artisti crea l'opera d'arte, il panificatore con la miscela delle sue farine crea un'altra opera d'arte. Infatti il pane è acqua, lievito, farina e sale, ma è diverso da un panificatore all'altro. E poi a volte passano anche dei messaggi sbagliati, come quello del glutine, dicevamo prima, glutine che in realtà non è contenuto soltanto nel pane. Assolutamente no. Non bisogna condannare soltanto questo prodotto. No, oggi viene demonizzato il pane che fa male, porta gonfiori, non è digeribile, eccetera, eccetera. Ma il nostro corpo, se noi leggiamo attentamente le etichette, il glutine è contenuto forse nella maggior parte dei prodotti che consumiamo giornalmente. Quindi facciamo attenzione a quello che è. Però poi viene additato soltanto il pane. Solo il pane viene demonizzato. E quindi è anche questo il messaggio che vogliamo lanciare. Per quanti sono interessati, per quanti sono della categoria e non, c'è un modo per entrare in contatto con la vostra associazione? Sicuramente sì, tramite ConfCommercio e d'Assipan Sicilia. Ci sono le pagine Facebook, abbiamo la sede in Via Mandrà. Allora un augurio, un in bocca al lupo per questo nuovo mandato che l'è stato affidato. Presidente dei panificatori di ConfCommercio Catania, Giussi Lacava, è stata riconfermata alla guida della categoria. Noi ci rivediamo magari tra un po' prossimamente per parlare ancora di questo squisito prodotto. Noi invece andiamo avanti, stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora di Buongiorno Notizie, ancora notizie e approfondimenti. Restate con noi.